Un club, il Lions Club di Vibo Valencia in particolare, che individua le attività commerciali storiche e le premia, segnalandole, in una città che vive comunque una profonda crisi. Un'ottima iniziativa, innanzitutto perché è opportuno che le società intermedie, cioè i gruppi associati che si trovano tra i cittadini e gli enti pubblici, si diano da fare per dare una testimonianza su quella che è la socialità di Vibo Valencia. Quindi questo premio è veramente una cosa in cui siamo felici noi del comune, della città, è qualcosa che avremmo potuto fare noi come amministrazione comunale, ma in questo momento siamo in una profonda difficoltà economica, sia per quanto riguarda le casse dell'ente e sia per l'attività commerciale in generale. Dobbiamo fare tutti uno sforzo per recuperare un sentire comune, una legittimità delle nostre attività, in modo che la città venga risollevata da questa crisi economica e sociale che è veramente pesante per la Vibo Valencia. Premiare il commercio a Vibo Valencia che vive un momento di crisi e individuare quelle che sono le attività storiche, cioè quelle che hanno resistito. Sì, è difficile resistere, soprattutto in momenti come questi, quindi premiare attività che hanno oltre 50 anni è sicuramente un grande piacere e come Camera di Commercio non potevamo mancare a questo appuntamento organizzato da Lions, che sicuramente ha avuto una bellissima idea per dare lo stimolo a questi imprenditori a continuare nei prossimi anni, nonostante le difficoltà che hanno subito, soprattutto nell'ultimo decennio, a causa della crisi che tutti conosciamo. La Camera di Commercio però di Vibo Valencia registra sempre dei trend positivi per quanto riguarda le aziende. Sì, in generale la provincia di Vibo è una provincia dove c'è molto fermento e dove, diciamo, tra natalità e mortalità delle imprese stiamo avendo un salto positivo, quindi significa che gli imprenditori ancora vogliono scommettere su questo territorio. Ci sono tanti buoni esempi di imprese che sono partite e nel tempo si sono allargate. Sicuramente il problema del commercio subisce di più, diciamo, la crisi del territorio, mentre magari le aziende, chiamiamole cosiddette industriali o artigianali, che riescono a vendere i loro prodotti al di fuori della provincia, sicuramente hanno meno difficoltà e quindi hanno la possibilità di non basarsi solo su un mercato locale. Quindi nel caso del commercio va rivitalizzato sicuramente il mercato locale. Per quanto riguarda le altre attività, aiutarle a imparare ad esportare dove ancora non lo fanno o quantomeno, diciamo, apporsi su mercati che non siano solo quelli locali. Il Lions Club di Vibo Valencia individua le attività commerciali storiche ed è un segnale doppio, innanzitutto di riconoscimento per chi ha resistito, al caso di dire, ma anche di stimolo per chi vuole ancora svolgere questo tipo di attività. Il Lions Club di Vibo Valencia è un attore propositivo sul territorio e chiaramente la missione per noi è anche pensare a come rinnovare il nostro motto che è We Serve, noi serviamo. Ci chiediamo come possiamo servire il nostro territorio, con quali attività, al di là di quelle tradizionali che sono molto note ai nostri concittadini che riguardino l'ambito della solidarietà o della legalità. Supportare attraverso una premiazione specifica le attività artigianali e commerciali in questo specifico momento storico ha una doppia valenza. Intanto è giusto che il territorio riconosca a questi operatori del commercio, dell'artigianato e della piccola industria i loro meriti e quindi tenere aperte le attività in un contesto di grande concorrenza internazionale e di forte dinamica, di complessità locale è giusto che venga riconosciuto, è giusto che venga premiato perché altrimenti il nostro centro, non solo quello cittadino, sarebbe veramente un deserto. Ma il messaggio importante che noi come Lions Club Vivo Valencia preme sottolineare è che si può essere attori sani, virtuosi, propositivi sul territorio, si può portare avanti una tradizione che sia artigianale, commerciale, si possono mantenere aperte le attività piccole e industriali e al tempo stesso, grazie alla presenza della Camera di Commercio e del Comune di Vivo questa sera è utile e proficuo avviare un dialogo tra istituzioni, appunto il Comune, gli enti come la Camera di Commercio che per mestiere devono sostenere queste attività, ma anche noi club di service che ci rendiamo utili per la cittadinanza. L'obiettivo è riuscire non solo a sostenere le attività meritori come quelle che abbiamo premiato stasera, ma anche innescare una dinamica perché il nostro territorio abbia attrattività, perché nuovi investimenti e nuovi flussi turistici fuori da quelli estivi possano arricchire il nostro territorio, che si crei nuova occupazione e che Vivo Valencia torni ad essere non solo una città nota per le cose che purtroppo leggiamo spesso sulla cronaca, ma che sia un punto geografico di riferimento per lo sviluppo di tutto il Sud.